Ciao bimbi, come state? Oggi vi presento un'attività nuova. È un'attività che permette di separare due sostanze. In questo caso abbiamo il semolino e le lenticchie. La cosa importante è che devono essere due sostanze molto differenti. Il semolino è molto sottile, quindi riesce a passare dal culino che ci servirà con l'utilizzo di un mucchiaino che ci aiuterà a dividere bene le due sostanze. Allora, adesso mischiamo bene le due sostanze. Con un ceino giriamo. Ecco che i semolino e le lenticchie sono uniti. Adesso siamo pronti per separare la nostra sostanza. Prendiamo bene col cucchiaino un po' di semolino e di lenticchie. Col culino lo appoggiamo bene su una delle due tazzine. Ecco qua, giriamo bene col cucchiaino e facciamo scendere tutto il semolino. Quando dentro il culino non c'è più semolino, andiamo ad appoggiare le lenticchie nell'altra ciotolina. Adesso proseguiamo finché non abbiamo finito tutta la sostanza che c'è nella nostra ciotola. Ecco che la nostra ciotola ormai è vuota. Abbiamo quindi separato il semolino dalle lenticchie. Spero vi sia piaciuto e vi mando un bacione. Ciao bimbi, a presto!